Era il 31 gennaio 2021 quando il corpo di Giuseppe Calcagno è stato ritrovato senza vita nella sua cella del carcere di Caltagirone in provincia di Catania. Cause naturali si era detto in un primo momento ma per la procura calatina c'è di più. A uccidere Calcagno, secondo i magistrati, sarebbe stato il suo compagno di cella che lo avrebbe strangolato nel sonno. L'uomo, che nel frattempo era stato messo ai domiciliari, è stato adesso arrestato nuovamente dai carabinieri. L'accusato, in base a quanto reso noto dalla procura retta da Giuseppe Verzer, era già stato condannato in passato per omicidio e tentato omicidio e adesso è stato di nuovo portato nel carcere di Caltagirone. La procura ha reso note solo le iniziali del nome dell'uomo, G.T., e non ha fornito il movente di un presunto assassino su cui resta ancora il giallo.